è incredibile come gran parte della paura venga costruita dentro di noi dai nostri genitori e alla fine non sei così diverso da loro come credi lei aveva paura di me delle mie idee bizzarre di come sarei diventata ed io avevo il terrore di affrontare questo viaggio avevo le spalle al muro non potevo più rimandarlo